Sublime specchio di veraci detti, mostrami in corpo e in anima qual sono, capelli orra di in fronte e rossi pretti, lunga statura e capo a terra prono. Sottil persona in su due stinchi schietti, bianca pelle, occhi azzurri, aspetto buono, giusto naso, bellabro e denti eletti, pallido in volto, più che un re sul trono, Or duro acerbo, ora pieghevol mite, irato sempre e non maligno mai, la mente e il cor meco imperpetualite, per lo più mesto e talor lieto assai, Siamo nella giornata del 9 giugno dell'anno 1786 e Vittorio Alfieri, che in quel momento ha circa 37 anni, compone quella che è forse rimasta come la sua poesia più conosciuta, il sonetto Sublime specchio di veraci detti, il cosiddetto sonetto autobiografico, che oggi abbiamo letto e che ora commenteremo insieme. Come di consueto ripercorriamo l'intera poesia una strofa alla volta e cerchiamo di unire la parafrasi all'analisi e al commento del testo. Partiamo dunque dai primi quattro versi, dai primi quattro endecasillabi, che dicono così Sublime specchio di veraci detti, mostrami in corpo e in anima qual sono, Capelli or radi in fronte e rossi pretti, lunga statura e capo a terra prono. Come si può facilmente notare fin dai primi versi della poesia, si tratta di un sonetto descrittivo. L'obiettivo è chiaramente espresso nel verso numero 2. L'autore vuole descriversi in corpo e in anima. Deve essere una descrizione a 360 gradi, integrale, sia degli aspetti fisici sia degli aspetti morali. Vediamo la parafrasi. Nel primo verso è contenuta una apostrofe, cioè un riferimento a qualche cosa. Il poeta sta parlando con un oggetto e lo definisce così Sublime specchio di veraci detti. Possiamo fare un'ipotesi. Il poeta sta osservando la propria immagine riflessa in uno specchio, che definisce sublime. E quello specchio ha la capacità di dire la verità, cioè di raffigurare in maniera realistica il poeta a 37 anni di età. Dirà delle cose veraci, delle cose vere, autentiche. Mostrami in corpo e in anima qual sono. Forse il poeta parla con uno specchio, forse sta facendo riferimento al sonetto stesso, alla poesia che inizia a comporre, forse ha un retratto che lo raffigura. Noi sappiamo che qualche anno dopo, nel 1793, Alfieri stesso, probabilmente di propria mano, copiò questo sonetto composto qualche anno prima sul retro di un quadro famoso che lo raffigura. In ogni caso l'intenzione del poeta è chiarissima. Vuole rivelarci il suo aspetto fisico, corpo, e il suo aspetto morale, l'anima. Qual è esattamente? Quale sono? Inizia qui la descrizione, che è innanzitutto fisica. Guardate il verso 3. Capelli, or radi in fronte, e rossi pretti. I suoi capelli, dice il poeta, ora, ora che non sono più giovane, sono ormai radi, cioè un po' diradati sulla fronte. Il poeta, guardandosi allo specchio, nota qualche stempiatura, inizia ad essere un po' stempiato. Ma è ancora fiero del colore rosso acceso, rossi pretti, dei suoi bei capelli di una volta. Lunga statura e capo a terra prono. Il poeta ci dice di essere molto alto, lunga statura, e aggiunge un dettaglio curioso. Capo a terra prono. Cioè tiene spesso lo sguardo rivolto verso il basso, il capo chino verso terra. Evidentemente quest'ultimo dettaglio non è più di banale descrizione fisica, è una prima allusione al suo carattere, al suo temperamento, che, come vedremo, è il vero soggetto di questa bella poesia. Tiene spesso lo sguardo rivolto in basso. Potrebbe essere un segno indicatore di timidezza, o forse anche di qualcos'altro, del fatto che spesso pensa, riflette, medita, e quindi si astrae dalla realtà che lo circonda. Dunque una persona riflessiva, per certi versi filosofica. prosegue la descrizione nella seconda quartina. Sottil persona in su due stinchi schietti, bianca pelle, occhi azzurri, aspetto buono, giusto naso, bellabro e denti eletti, pallido in volto, più che un re sul trono. Si parte nuovamente dall'aspetto fisico per transitare a quello morale. Lo vediamo insieme alla rega 5. Sottil persona. Non è soltanto di lunga statura, verso 4, ma è anche una persona magra, in forma, sottile. E si regge su due stinchi, cioè su due gambe, schiette, belle diritte. Bianca è la sua pelle, tenete conto del fatto che è un nobile. I suoi occhi sono azzurri, chiari, splendenti. Il suo aspetto è buono, è una persona che trasmette bontà e salute fisica. Il naso viene definito come giusto, cioè proporzionato con il resto del volto. Le labbra sono belle. I denti sono eletti, cioè scelti, puliti, bianchi, ancora in ordine. È una persona perfettamente in salute e tutto sommato ancora abbastanza giovane. Poi un dettaglio importante, al verso 8. Il poeta si vede pallido in volto, un po' sbiancato nel volto, più che un re sul trono. Veramente curioso questo paragone che ci propone nella seconda parte dell'endicassillabotto. Si vede più pallido in volto di un re sul trono. Per quale motivo un re sul trono dovrebbe essere pallido? Perché dovrebbe avere paura, timore di qualcosa? Se ci pensate, è vero, un capo di stato, una persona potentissima come un sovrano, un re, non è mai del tutto sicuro di poter conservare a lungo il proprio potere e quindi ha timore, ha paura di perderlo. E questo viene simboleggiato dal pallore. Evidentemente anche il poeta ha tratti a dei momenti di insicurezza, di paura, di timore, di qualcosa. Come vedremo alla fine, il sonetto è tutta un'alternanza di due tratti caratteriali diversi. Da un lato quasi una incertezza, una qual certa timidezza, pallore, dall'altro lato invece una certezza a tratti persino arrogante ed eccessiva. Lo noteremo fra poco. Passiamo alle due terzine, da riga 9 al fondo della poesia. Or duro acerbo, ora pieghevo il mite, irato sempre e non maligno mai, la mente il cor meco in perpetua lite. La prima delle due terzine, versi 9, 10 e 11, è il trionfo di una figura retorica che evidentemente l'autore amava tantissimo, cioè l'antitesi, l'opposizione di concetti uno bianco e uno nero per così dire. Vediamo perché. Si autodefinisce alla riga 9 ora, cioè in certi momenti, duro di carattere, aspro, acerbo. In altri momenti, il secondo ora, al contrario, pieghevole, cedevole, mite, buono. Notate l'antitesi, da una parte duro e acerbo, dall'altro lato l'opposto, pieghevole e mite. Un'altra antitesi alla riga 10, irato sempre, sempre in preda all'ira, al furore, ma in fondo, seconda metà del verso, non maligno mai, incapace di essere veramente crudele e cattivo. E poi un verso giustamente famoso, il verso 11, la mente e il cor meco imperpetualite. Il poeta è come scisso in due, la sua anima è come spaccata. Dice la mia mente, la mia intelligenza, la mia parte razionale e il mio cuore, cioè la mia parte passionale, istintiva, pulsionale, sono al mio interno, con me, imperpetualite, in un litigio infinito, continuo, che non si sospende mai. Dunque una persona che sa essere, certe volte, fredda, calcolatrice, razionale, la mente, in altri momenti, viceversa, si rivela passionale, istintivo, pulsionale, certe volte magari anche inutilmente aggressivo, il cor, il suo cuore. Dà veramente l'idea di un uomo che ha i piedi in due mondi diversi. Da una parte un mondo razionale, quello del settecento, dell'illuminismo, del trionfo, della razionalità, e l'altro a piede dall'altra sponda, nel secolo successivo, che sarà il secolo del romanticismo, della passione, dell'istinto, del sentimento, dell'irrazionalità, del cuore per l'appunto. Quindi un'anima scissa in due, spaccata. Questo elemento torna anche nell'ultima parte, nella seconda terzina, che recita così, dalla riga dodici in poi. Per lo più mesto e talor lieto assai, or stimandomi Achille ed or tersite. Uom, se tu grande o vil, muori e il saprai. Molto retorica la conclusione di questo sonetto. La vediamo insieme. Continua a descrivere il suo modo di fare, il suo atteggiamento, che per lo più, nella maggior parte dei casi, rivela mestizia. Certe volte sono spento, sono mesto, sono persino triste. Talore invece, altra antitesi, altra opposizione, sono assai lieto, sono molto felice e pieno di gioia. Perché? Perché in certi momenti, ora, mi stimo, ritengo di essere come Achille. Ed ora, cioè in altri momenti, al contrario, penso di essere come tersite. Qui si vede anche la cultura classica di quest'autore, che comunque è ancora un autore in fondo del neoclassicismo del Settecento, conosce bene questi due famosi personaggi della mitologia greca. Pensate all'Iliade. Chi è Achille? Achille è l'eroe per antonomasia, l'eroe forte fisicamente, bello, coraggioso, pieno di ardore e di passione. Terasite è quasi l'opposto. È brutto fisicamente, addirittura presentato come deforme, è una persona sgradevole, presentata come vile, come codarda, come vigliacca. In sostanza, l'anti-eroe, l'anti-Achille per eccellenza. Lui dice di essere entrambe queste cose. Certi giorni mi sento un Achille, certe volte al contrario mi sento un tersite. Va però fatto una notazione a margine. Tersite è vero, è un personaggio che Omero ritiene completamente negativo, però presenta una caratteristica che forse per noi così negativa non è. Ed è il coraggio di dire le cose in faccia. C'è un episodio famoso nel quale Tersite si oppone ai capi dell'esercito acheo, dell'esercito greco. Litiga, in fondo, con chi? Con Odisseo, con Agamennone, con le persone molto più potenti di lui. Quindi, in fondo, questo è un tratto che poteva piacere ad Alfieri. Un certo ribellismo, una certa violazione delle regole, il coraggio di dire sempre quello che si pensa. Quindi, in fondo, in Tersite qualcosa di buono c'è. E notate la conclusione. Qui il poeta si rivolge apparentemente a ognuno di noi, a ogni essere umano, e dice uomo, sei tu grande o vile? Ecco l'ennesima antitesi, quasi un ossimoro. Sei una persona grande, forte, coraggiosa, o sei un vigliacco? Sei una persona vile, che non ha il coraggio dei propri pensieri e delle proprie azioni? Bella domanda. E c'è però anche la risposta. Muori e il saprai. In fondo è un motto di saggezza, è una frase quasi filosofica. Devi attendere la tua morte per dare una valutazione attendibile della tua esistenza, per tirare le fila del discorso e per arrivare alla somma, positiva o negativa, di quello che hai fatto nella vita. La morte come banco di prova, come unità di misura della grandezza oppure della viltà di un essere umano. Muori e lo scoprirai, e lo saprai. Dunque quello che in prima battuta ci sembrava un sonetto autobiografico piuttosto scontato, si rivela un testo originale, composito, complesso e molto intelligente, nel quale a mio parere convivono tre elementi e si sposano bene insieme. Un primo punto, la descrizione fisica oggettiva della persona di Vittorio Alfieri. Due, la descrizione del suo animo, del suo carattere, del suo atteggiamento e dei suoi modi di fare. E tre, potremmo dire, alcune riflessioni di carattere più generale su come dovrebbe essere un essere umano, che vorrebbe essere grande, ma certe volte è condannato ad essere vile. Concludiamo questa video-lezione rileggendo un'ultima volta questo bel sonetto autobiografico di Vittorio Alfieri, Sublime specchio di Veracidetti, che risale al 9 giugno del 1786. Eccolo a voi. Sublime specchio di Veracidetti, mostrami in corpo e in anima qual sono, capelli or radi in fronte e rossi pretti, lunga statura e capo a terra prono. Sottil persone in su due stinchi schietti, bianca pelle, occhi azzurri, aspetto buono, giusto naso, bellabro e denti eletti, pallido in volto, più che un re sul trono. Or duro, acerbo, ora pieghevo il mite, irato sempre e non maligno mai, il cor meco imperpetualite, per lo più mesto e talor lieto assai, or stimandomi Achille ed or tersite. Uom, se tu grande, ovil, muori e il saprai.